Doppia vittoria per Manola Di Pasquale, presidente del CDA dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo. La prima è arrivata da Raffaele Cantone, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che le ha dato ragione, nessuna inconferibilità, ritenendo legittimo l'incarico da presidente. Il TAR di L'Aquila ha respinto il ricorso della Federazione Veterinari e Medici che si opponevano alla nomina. Finalmente lo chiudiamo, ovviamente confermando quello che era sempre esistito fin dall'inizio, e cioè che il procedimento amministrativo postinesse alla Regione per l'accertamento dei requisiti era chiaro e trasparente, attestato ovviamente dalla sentenza del TAR, così come non esiste la inconferibilità e l'incapacità e l'incompatibilità. Era tutto quello che mi hanno attribuito in questo periodo. Credo che è ora di chiudere questa porta e di chiuderla anche nei confronti del Direttore Generale, perché adesso non ricominciamo con la stessa filastrocca, perché facciamo solamente male a un ente, che è un ente importante per il nostro territorio, noi stiamo già lavorando su dei progetti importanti, basti pensare ai 32 milioni del Masterplan per la risoluzione dei condensiosi che riguardano il personale di quell'istituto, per farlo diventare e mantenere un centro di eccellenza e anche per ricostruire un rapporto con il Ministero, con il quale si è avuto dell'incomprensione nell'ultimo periodo, ma siamo convinti che tutto ciò possa essere ricostruito. Ma la vicenda non è ancora conclusa, perché a seguito dell'interpellanza presentata dal deputato di Forza Italia, Fabrizio Di Stefano, il Ministero della Salute ha chiarito di aver incaricato i carabinieri di trasmettere le carte alla Procura della Repubblica. Ho chiesto al Ministero chiarezza sull'argomento e il Ministro, attraverso il sottosegretario Di Filippo, a qualsiasi settembre di ieri sera, ha risposto molto chiaramente come la pensa, e cioè che non condividendo la situazione e le scelte fatte e ritenendole in particolar modo quella del direttore non corretta e non a norma, non avendo avuto altra maniera di interloquire con la Regione, ha preso le carte, ha incaricato i carabinieri di trasmetterle alla Procura della Repubblica. È gravissimo, di una gravità inaudita, che un Ministero si deve rivolgere alla Procura della Repubblica per interloquire con la Regione, tanto più che il Ministero e Regione sono della stessa parte politica, quindi non è neanche opinabile che ci sia stata un'azione costruita per danneggiare politicamente la parte avversaria. È evidente che l'arroganza di questa Regione, la supponenza e il mancato rispetto di ogni regola di diritto e di convivenza civile ha portato sì che il Ministro non ha potuto fare altro che far intervenire la Magistratura.